Amici sportivi, buono pomeriggio dallo stadio Luigi Ferraris in Genova per questa sesta di campionato tra Sampdoria e Atalanta. Inzaghi, stupendo l'intervento di Perrault. Jacopino che si infila molto bene in aria, tira ed è il gol, gol di Jacopino, splendido, proprio con azione personale, ha infilzato Micillo con un gran tiro di sinistro ed è festa grossa per questo giovane, giovanissimo attaccante Brucerchia. Lentini mette in mezzo e c'è questo tentativo di Capitan Mancini di testa su un rimpallo della difesa dell'Atalanta con il pallone che termina out. Perrault che tira, gran bordata e questa volta è bravo Micillo, forse il pallone a mio avviso sarebbe terminato out, comunque Micillo ci mette il braccio, anzi la mano sinistra e il pallone termina in angolo. Bellissimo adesso, grande gol di Perrault, stupendo gol di Perrault dal limite dell'area con un colpo di collo piede precisissimo a 20 centimetri da terra, trappigge Micillo di nuovo sulla destra. Anche questo gol di Perrault è un'invenzione di Mancini sulla sinistra. Ancora Mialovic, questa volta corto e c'è Franceschetti che ha la palla buona, inzucca bene di testa, schiaccia troppo e sul rimbalzo il pallone termina fuori. Sanchetti ci riesce, entra in area, tira, bravo Perrault a parare. È la prima, una delle poche azioni di Ventini. Gros è vicino alla palla, batte Herrera, traversa piena. Bellissima la posizione di Herrera, probabilmente se fosse stato più basso non so se Perrault ci sarebbe arrivato. Paolo Sosalton ancora per Roberto Mancini, mette a terra, bravissimo, bravo, bravo per Invernizzi, palo pieno, un palo da una parte, un palo dall'altra, due emozioni nel giro di 30 secondi. Vittoria della Sampe che scala a nove punti in graduatoria, 2 a 0, ricordo le segnature. Primo gol di Jacopino, poi gran bordata di Verone dal limite, entrambi su assist di Roberto Mancini. Primo gol di Jacopino